Io ho messo verso l'umanistica del futuro zero, ma questo è un titolo furbo, perché prima avevo rispetto l'intelligenza collettiva al servizio di un'idea, e infatti penso che sarei dilusi del fatto che non parlo molto della ricerca umanistica, benché posso dire due parole subito, con i web e i digitali, e farò piuttosto uso dell'intelligenza collettiva che descriverla in dettaglio, anche di questo potrò dire due parole. I web e i digitali stanno cambiando enormemente, non solo la ricerca umanistica, ma infatti tutte le forme di conoscenza oggi, siamo in un'esercitazione collettiva come Pipe League. specificamente, diciamo, sulla ricerca, chiaramente oggi, Pipe League è un modello, Google è un modello, i giornali online sono modelli, sono una quantità di modelli di ricerca oggi che fa che oggi il problema dell'università o quello della scuola, e di insegnare ai ragazzi di fare domande e non di fare risposte. Fondamentale questo. La ricerca comincia a dire, e infatti i ragazzi non aspettano i migliori professori per fare domande, imparano di farlo da se stessi, questo è fondamentale. Chiaramente, oggi abbiamo un nuovo partner, un nuovo partner, che è al servizio della ricerca, e non è ancora veramente usato, che si chiama Big Data. Big Data è una formule fenomenale di informazione potenziale, di nuovo richiede domande, non risposte. Big Data è un sistema dove la risposta non esiste in assoluto più perché è fatta la domanda. Allora che nella storia dell'archivio, anche di nuovo archivio semplicemente la mente di quello che sa, c'era qualche parte alla risposta. Adesso siamo un mondo che la risposta è in assoluto, all'innovazione del mondo. Allora, posso dire che sull'intelligenza connessione connessione, mi sembra naturalmente una delle conseguenze della messa in rete, non solo delle cose, ma anche della gente. È messa in rete in modi talmente diversi, con piattaforme talmente specifiche, talmente specifiche, che creano le loro future. E infatti è un po' questo che volevo far vedere sulla problematica specifica di Udile. Allora, dove è Udile? Questo è un scopo di 2012, va anche più o meno adesso, della cosiddetta smart city e del benessere. Allora, a sinistra, in alto, sono le città, che sono più smart, e a destra c'è quello che sono più vivibili. E vedete che Udile non è mai passato, non è mai passato, non è mai passato, ma è passato, scusate. Vediamo Udile. Ecco. Ecco. Allora, che vuol dire? Vuol dire che Udile è certamente una città vivibile. Ci vengo spesso, l'hanno molto, veramente la conosco sempre un po' meglio, la sento bene in una città molto vivibile e certamente smart. l'ho già mangia? No, no, anche niente. Perché non è come una città? Questo è il problema. Come si sa, le città italiane hanno tendenza a competere tra di loro. Bene. Allora, io sono a pensare a questo. È un problema di cultura, come vincere nella cultura digitale. il problema di cultura tecnologicamente e per la trattatura utile e perfettamente a posto. L'iniziativa costituita culturale come questa, come quella del futuro forum, no c'è una presenza della cultura digitale, se l'altro, e una certa continuità. Però, ieri sono stato nella discussione alla Camera di Comercio con varie persone decidori della città e l'assessore all'innovazione ha detto che manca la massa critica. Veramente perché ultime torna, diciamo, manca la massa critica e l'idea è come un italiano. Eppure, come nel suo passaggio, il ministro è avere un'idea delle città. Questa è un'idea che si è parlato di un'idea molto interessante, come avere un'idea della città? Voi potete pensare che sono fuori del soggetto in assoluto? No. No, però ci troverò. Che sono le chiave della Smart City? La gente è smart. Si tratta di tre più grandi settori di attività potenziale e distribuzioni. Questo vuol dire, oggi praticamente è universale a disposizione che tutti hanno un smartphone nella tasca. però avendo il wifi aperto, l'importante, il luciano, il bantanare, tutto questo che si discuta molto, che si fa ogni tanto. Qua c'è. Il coinvolgimento della gente ha voglia di partecipare, però non sa come. Non sa come. E questo è il problema della transcultura. L'intelligenza collettiva è più persone, ma sono persone, sono individui, non sono una cultura di massa. L'intelligenza collettiva è l'intercambio tra la gente nell'immediato di Twitter o sul lungo termine di blog. Creare comunità, questo è fondamentale. E per questo che vogliono proponere il modello di Transmedia. Il Rai che Transmedia è capace, precisamente, di arrivare a una ricerca umanistica. Però dovete usare le vostre immaginazioni. Allora, mettiamo qui in dettaglio. Distribuire editarli evidentemente. Quindi parlavo. Promuovere, praticamente, queste cose. Incoraggiare la rilasione di servizi in business evidentemente. Dare all'unico. Tutto questo si deve fare e si va. Penso che io ve lo già qua. Salve forse Open Wi-Fi. Su Open Wi-Fi ho sempre avuto un grande problema perché c'è una resistenza. E non so ancora se veramente una resistenza che serve dell'amministrazione in generale e della gente a lasciare le cose Open o alla città di dare almeno un accesso Open a varie parti della città. Non so perché non succede. Per questo lo faremo. Per coinvolgere e interagire la gente con la città. Si può utilizzare un sacco di creazioni e di applicazioni urbani. Ci sono pratiche che invitano a riparare le strade. Tutto questo è esistenza. Ma è anche, vi devo parlare un po' di interagire crowdsourcing e crowdfunding. Perché questi sono modi di interagire la gente. Creare comunità vuol dire continuare emozioni, oggetti, risorse, brand, game storytelling, applicazioni. Crea fiducia tra i gruppi di interesse che si mettono dentro questo e crea anche, anzi, un senso di responsabilità. Transmedia è un ritorno alla creazione medievale. Per loro è questo veramente. Questa è una situazione di fiesta dove si fanno diversi fatti, diversi posti, dove fanno diverse cose e il pubblico naviga tra queste varie cose. Io chiamo il transmedia il faccia a faccia medievale. Noi abbiamo l'elettronico telepreso e il tutto per le cose. Ricordatevi che nella scena medievale il pubblico era mischio con la scena, con i vari aspetti della produzione territoriale e che c'era un interscambio, che si vendeva cosa ad mangiare. E l'altro, chiaramente, è la cosa che evitiamo qua. Che sono i punti comuni nel teatro medievale e in transmedia? Prima di tutto, transmedia che vuol dire, vuol dire il passaggio di una storia da un medium a un altro e che circola tra la gente e che è disponibile per consulto. Il transmedia vuol dire che la gente raccontano storie o fanno presentazioni di cose in gruppo e fanno questo gruppo o fanno, diciamo, conoscere qualcosa che ci interessa. Allora, c'è storicamente, c'è il fatto che è molto participatorio come medievale. Ipertestuale, anche perché ipertestualità che vuol dire? Siamo tutti ipertestuali. Abbiamo in tasca il modo di essere ipertestuali e lo siamo. Vuol dire che siamo un nodo di una rete potenziale, di quantità con la connessione possibile, se di che possiamo andare di là e di qua a volontà. Simultaneo, anche perché ipertestuali e ipertestuali sono operazioni che arrivano insieme e come simultaneo la cosa che succede sull'assegna metipale. Non sequenziale non è una storia unica che si sviluppa e che porta tutta l'attenzione di si stesso. Ci sono navigazioni di storie e di presentazioni di storie. E, evidentemente, può interlocere tutta la comunità. Il concetto di Gesuisi 2.0 è totalmente addressato all'interesse dell'eperistica perché rivemmo al ratio studiorum. Vedete? Il ratio studiorum manca qualcosa oggi. Noi dobbiamo avere un nuovo voto. Perfetto di Gesuisi 2.0 hanno inventato la pedagogia basata sull'organismo. Hanno inventato, chiaramente, l'educazione appropriata alla tecnologia di informazione fondamentale del tempo che non c'era l'alfabeto e la samba. Hanno creato l'oneto, leader delle società, a partire d'una, chiaramente ispirata dai greci e non per niente che la renaissance si chiama Ergimento, ma a partire di questi modelli hanno ripreso gli effetti dell'alfabeto. I miei libri sono stati scritti sull'effetto dell'alfabeto sul cervello. Come pensiamo a partire dal fatto che prendiamo l'inguale, che lo mettiamo dentro, mi dà il silenzio e diviene chiaramente una cosa che è alta, creando una sensibilità opaca. Però i big data oggi, il famoso universo, rovesciano questa opacità e poi hanno chiesto di nuovo, un essere trasparente. Siamo passati dell'era dell'obacità a quella della trasparenza, siamo passati dell'era del controllo del linguaggio dal corpo individuale all'era nuova, rinnovata, del controllo del corpo individuale a partire di un linguaggio. rovesciamento fondamentale di essere. E' per questo che, insegnare rapidamente che questi trasparenza sembrano importanti. I gg di 2.0 partono, partono del 1.2.0, diciamo, del digitale, com'è il nuovo alfabeto, com'è la nuova base di trasformazione dell'informazione, di diffusione e di soluzione. Noi abbiamo letteralmente bisogno dell'educazione ed è un nuovo contenuto, che chiamano transmedia turma, abbiamo bisogno letteralmente di nuove forme di creazione e di insegnamento a partire del digitale, e non solo per perdere l'alfabeto direttamente, l'alfabeto è la garanzia della libertà individuale, e anche della democrazia. E' di base questo. Però, però, vogliamo oggi sapere come fare con il digitale e oggi è lasciato ai ragazzi come se potrebbero. Sono loro inventare il sviluppo, perché non hanno un insegnamento particolare e non c'è particolarmente l'interesso a metterle dentro questa cultura, perché si pensa che siano già. Però abbiamo bisogno di approccio critico. Abbiamo anche bisogno che questi ragazzi siano capaci di usare queste tecnologie e fare, diciamo, qualcosa di interessante con questo. Pratica dei media. Come costruire un mondo. Transmedia è basata su un mondo. Un transmedia. Storytelling è basata su un mondo. E si va a partire di cose che i ragazzi conoscono bene. E' un po' come il mito greco. Tutti conoscevano il mito. Non si poteva stare storie e narrative su questo mito. Adesso il transmedia si basa sul mondo conosciuto, quello di Harry Potter. Quello di... Pirates of the Cher B. No. Tutte le cose che tutti fanno bene. Il suo avatar. Però, non è l'unico oggetto che si può presentare al transmedia. E' per questo che il caso è utile. Che potrebbe farsi a Udile? Ma già... Come fare? Io pratico con gli studenti la cosa che chiamo Atelier di intelligenza collettiva. e vedo l'esempio di cose che do. Che ho dato, perché non sono più all'università di Napoli. Ma... Ho fatto prendere gli studenti i gruppi di 6, 7, 8. e ho dato a loro il compito di aiutare una piccola impressa di Napoli che non aveva ancora usato della rete per far promuovere queste compagnie. E avendo fatto compagnia, per l'ultimo, per altre cose che ho fatto, fatto compagnia. Quindi questi ragazzi praticavano il medio. E' una cosa utile. E sui gruppi, c'erano uno in ultimo, due sono stati ripresi dalla... la ripresa, che è una cosa rarissima. E intanto... No, diciamo, è una cosa che funziona bene. E l'idea è praticamente di creare Atelier di intelligenza con essa sui transmedia per creare smart people, per dare... Allora, che fare con i transmedia? Evidentemente l'idea sarebbe di prendere la storia utile come base, come mondo. Il mondo non è il mondo di Harry Potter, non è quello della data, è utile. E la storia di utile ha livelli che 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 potenzialità. I personaggi famosi. Sappi? Alessandro Sappi? Valitore Sappi? quello è io sono sto miglioramento circolando nella città per vedere dove sono in testimoniania a partire di chi possiamo cominciare una storia no sono stato in questo c'è un bar meraviglioso il castello c'è un bar molto carino vista della città e tutti e lì dentro la sala ci sono mi ho voluto mandare fotografia e dentro questo sono medaglioni che sono delle grandi famiglie ma anche di personaggi individuali che avevano cambiato qualcosa con la città il dolore se lo so difensore era meraviglioso di vedere poi cominciamo con questi ma che possiamo dire di questo no allora l'idea è di rendere una città attiva con il modello dell'intelligenza progettiva per partecipare ai cittadini mediante una forma di narrativa trans-segale poi votare scuole istituzioni centrosessuali attività commerciali e molti altri nodi della città permettere a tutti di partecipare in tempo reale o in differenza far conoscere meglio la città la sua cultura e le sue necessità a partire di gruppi di ricerca delle scuole e delle università e anche fuori che a partire di un mondo che si immagina suggerito delle cose utinense fare un inizio di storia e cominciare di far circolare dentro la città cominciando i genitori con i famici diciamo facciamo un po' fidare la cosa stimolare allora la gente di eventualmente sul lungo termine quando pensano che interessate quando pensano di essere coinvolti aggiungere al capitale di conoscenza e a questo tipo di di connessione con il luogo o con la storia e creare effettivamente un archivio da che un elemento di gaming di coinvolgimento come un elemento di finzione e anche contenuti che poi fa paura anche all'unica della città della città che mi sembra veramente veramente un nuovo umanismo beh io direi che posso far vedere come va la città di intelligenza ma possiamo anche di questo può essere visto dopo che possiamo già discutere mi sembra tra di noi poi si parlano anche del calcio agli di qualsiasi ma o solo si è anche di più risultati il percorso che ci hai che ci hai descritto in maniera così magnifica è parte del punto no che quello di nel concetto di umanismo il concetto di umanismo relativamente non solo all'elemento culturale ma anche alla comunità che intorno a questo concetto si dovrebbe ardenzare per favorire che cosa la quella che tu hai definito giustamente il coinvolgimento al fine di creare l'engatement per tutti quei servizi e quei processi che descrivevi la gamification e tutte queste cose che possono rendere una città un ambiente di una comunità sviluppata e interattiva ora io vi chiedo se nel processo che ci porta a riflettere su questi pilastri la distribuzione che non sembra essere in discussione perché oggi ci lo diciamo quotidianamente il problema tecnologico è di dare un senso alla tecnologia non dover bisogno di tecnologia nuova la tecnologia che abbiamo è probabilmente sovrabbondata abbiamo più tecnologia di quello che ci servirebbe probabilmente il coinvolgimento è molto semplice da raggiungere in certi strati della società perché come dicevi giustamente oggi abbiamo addosso quando non ce l'abbiamo in tasca ce l'abbiamo proprio nelle fibre dei nostri vestiti con questi nuovi wearable devices e strumenti che diventano quasi trasparenti e si vanno in senso di quello che dicevi del contrapporre un'epoca di opacità e un'epoca di trasparenza questa trasparenza però è molto molto facilmente raggiungibile da una certa generazione però la soglia d'accesso si va alzando a seconda di del tipo di persona che ha in mente per esempio i ragazzi che vengono ai corsi che facciamo alle università sono immersi in quest'acqua per loro è quasi impercettibile tant'è vero che loro hanno un problema differente questa trasparenza può portarli a sbattere molto la porta di vetro quando capiscono qual è l'uso dei social network che non dovrebbe essere fatto che loro non si rendono conto di star facendo quello che dicevi la necessità di avere un approccio critico all'utilizzo di queste cose però quando guardiamo un'altra parte della società che è quella che magari frequentiamo professionalmente più da vicino l'accademia la parte che deve avere un ruolo anche di promozione di questa rivoluzione culturale che tu dicevi secondo quella che è la tua esperienza questo livello di trasparenza questa soglia d'accesso e dobbiamo ancora lavorare a questo a questo livello secondo te ci sono già le condizioni perché questa comunità che dovrebbe avere un ruolo in qualche modo di libero dovrebbe promuovere questo percorso secondo te è un discorso su questa fetta della comunità su questa parte del processo è ancora da fare oppure diciamo secondo te tutte le fasce sono ugualmente posizionate in questa forza all'engatement al coinvolgimento al coinvolgimento allora cosa dovete fare non solo nel mondo dell'accademico dove la resistenza potrebbe durare un po' di più perché il rifugio dell'opacità è l'accademia no? no non è solo per il libro no perché no, il rifugio dell'opacità è nel libro è nel libro non nel schermo il schermo è allora è nel libro il libro è il posto dove ancora sei tu il direttore del linguaggio sei il tuo corpo e il tuo occhio tutto questo questo non si muove è un posto dove l'informazione si muove e non si sente entra semplicemente dentro e costituisce la mia curiosità vabbè adesso ecchi Tommy si costituisce che lui ti dà che sono i ragazzi che sono sempre traessi da un qui per l'altro chi degli altri allora no, non siamo pronti per niente io sto provando di scrivere un libro sull'etica della trasferenza all'era dei big data perché sono interessato al fatto che una volta che sei nudo sono un po' più nascondere quello che si chiama vuol dire che essenzialmente e eventualmente è possibile che noi torniamo all'era del senso di onore un senso di ok sono assolutamente indietro delle parole perché questo è una cosa interessante l'etica della trasparenza fa che come non si può più nascondere si autosensura e si organizza non da fare esattamente come tutti gli altri ma da fare cose che sono legittime dentro il sistema sociale penso che la differenzazione tra la gente continua questo è il dettaglio dell'alfabeto e se vogliamo mantenere questa dobbiamo far leggere ai nostri ragazzi perché se no, per non altro presto e tutti li fanno sempre andando avanti sottolineando alcune delle parole chiave che hai inserito in questo racconto sequenzialità, linearità, prospettiva sono parole che conosci che conosci sulle quali hai scritto insomma una cosa molto importante ecco c'è un conflitto mi sembra di vedere nel discorso intorno a queste cose fra chi pensa che la sequenzialità la linearità e la prospettiva siano un valore un valore fondante fondante concetti chiave come quello di autorità come quello di autorevolezza come quello stesso di democrazia mentre in altre situazioni si sentono le stesse parole chiave in particolare democrazia in un contesto totalmente opposto cioè chi sostiene che le noble amateur quello dell'elemento base del crowd qualcosa funding sourcing whatever sia possa essere un nemico o un amico di questa società aperta che tu descrivi ora questo conflitto probabilmente sarà destinato a durare fin tanto che persone come te come Luciano Floridi che riflettono sull'etica addirittura non solo dei big data ma dei delle macchine fin tanto che non avremo un modello per interpretare questa realtà nuova questo spazio nuovo questo tempo nuovo che ci si presenta e che a volte ci lascia un po' spaesati probabilmente questo conflitto ci porterà avanti e ci riserverà delle sorprese piuttosto interessanti come questa antinomia chi è qual è la chiave per uscire secondo te da questo conflitto cioè come si possono come si può cercare di tenere in equilibrio una situazione in cui allo stesso momento gli stessi concetti possono essere usati sia da chi sostiene una raccomandazione come la tua e sia invece da chi sostiene che queste cose portino alla disgregazione della società alla quale siamo abituati a riferirci nella quale ci sentiamo a casa come come ci si può muovere in questo in questo spazio that is a trick question no bellissima domanda e veramente ci devo pensare di più che le cose di più però diciamo che le cose posso già dire che siamo a un momento tra tragico perché la tragedia greca era inventata precisamente per risolvere il problema opposto nella direzione che fosse idea che il coro rappresentava il pubblico è che la torre ipocrito ipocritos quello che parla sotto il giudicamento prima che giudicare ipocritos non doveva dire un fungo via derivato ma la situazione tragica è questa che il coro rappresenta la gente e la torre e vengono uno dopo l'altro da Estio a Sofocchi la torre rappresenta dalla crisi dell'individuale la crisi del virus la crisi del pubblicamento Sofocchi è quello che ha messo le due cose in tal contraddizione che era il risultibile e finalmente si elimina il coro ripide si elimina il coro perché non c'entra più questo pensiero collettivo collettivo della gente adesso diviene passiamo al drama come diceva già Nietzsche passiamo al drama perché adesso non è un problema di mani personaggi come viene giunti come diceva Nietzsche vengono sulla storia 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 allora oggi siamo in una situazione diversa stiamo passando da globalità l'individualità l'ottorità personale tutto questo l'identità privata no fai passare in questo a una situazione detto di che noi ritroviamo la comunità non è la stessa esattamente ma la ritroviamo allora possiamo dire che pensava all'attore non sono ancora d'accordo perché ci sono tanti problemi nel mondo attuale ma poi lui pensava che perché ho parlato di questo con lui e lui pensava vabbè allora noi torniamo nella comedia no non nella tragedia perché la comedia è una cosa del pubblico della società il tragico è una cosa che lo ha si condivide con tutti sì sul teatro però fondamentalmente lui diceva noi ritroviamo Grasse il vino è morto prima della red è morto in una mila tante volete lui ha previsto tutto questo ma al millimetro ok e allora io allora la domanda sapere sì come idea o no fondamentalmente come cioè ricercatore cognitivo posso letteralmente scrivere sulla mia carta di visita ricercatore cognitivo perché la prima ossessione da me è di sapere il pensiero per dire e perché sono al lavoro ogni giorno sulla domanda non posso ancora descrivere che sarà che già è il pensiero virale e l'associazione particolare la lunga colla come diceva Chris Anderson questi questi rubini che arrivano o no a conoscersi attraverso le loro specificazioni per dire l'umanistica è assolutamente facile da una cosa e con grandi quantità con unità quindi allora non so ancora descrivere mi piace che tanto ma non posso ancora descrivere questo cambiamento che consigne ancora il ricordo del passato privato abbiamo creato il programma che per caso non si può tradurre in italiano pubblico pubblico la contrazione dal pubblico e dal private privacy è public less or public e pubblici è la tentativa di nominare questa situazione dentro di che siamo al stesso momento privati e pubblicati pubblicati un'altra cosa da dire sulla ricerca comunistica oggi la pubblicazione si fa molto più veloce che nel passato e questo può fare problema a quelli che sono unificatore particolare perché la verifica deve venire così veloce che la pubblicazione e quando la specializzazione va oltre la verificazione vende più tempo allora sappiamo che la rintesa della pubblicazione professionale fa parte del diciamo del fatto che quando tutto va alla velocità della luce non è male di avere alcuni ralentatori da che questo è principale questo ralenta l'intelligenza questo è stato un ralentatore di intelligenza fenomenale dal medioevo fatale dalla stampa fenomenale adesso è tornato il ralentatore della connessione della conoscenza ralentatore necessario che fosse in università su questo piano e continuano di avere le sue necessità la cosa che direi che è non fare tutti i corsi a poi questi poveri ragazzi faccia a faccia possono fare un sacco tra di loro ma il faccia a faccia continua a essere importante quindi la necessità deve continuare a presentare il punto di incontro tra la gente ogni tanto riaffrescata ma lasciare queste ragazze fare i sogni se possono perché in Italia sono molto il fatto ma questo sono le tre riempie ci rispondo male con la mamma con la mamma assolutamente per tornare al punto che anche gli organizzatori hanno consegnato come oggetto di discussione quello di come cambia la ricerca e come la ricerca si struttura in un ambiente di rete che poi stiamo parlando che si immagini come la rete delle reti fin di internet o altri tipi di rete che sono tipici della nostra interazione in questi tempi di sicuro quello che non ci sfugge è che come dicevi giustamente la velocità è cambiata e io ricordo che con il tuo libro l'appello della cultura c'è un esempio di come cambia la percezione delle informazioni in un individuo al crescere degli stimoli che gli vengono presentati e mi sembra che l'esempio riguardasse la televisione all'epoca e fondamentalmente si diceva che all'aumentare degli stimoli si perdeva la capacità di chiusura orientata e la chiusura orientata è una risposta razionale allo stimolo che arriva quindi si rispondeva di non di corteggia ma di cervelletto col sistema nervoso senza scomodare il cervello questo è un elemento che non è del tutto diciamo non è del tutto assente anche da una certa cultura letteraria ottocentesca e novecentesca penso per esempio a Simmel con la metropoli della vita dello spirito che diceva una cosa molto simile la vita nelle metropoli ce lo stringe a incontrarsi con un sacco di persone e più sono le persone che incontriamo e più i rapporti diventano si ammappano e quindi le interazioni diventano diventano incapaci di sostenere quel peso che dovrebbero sostenere allora io mi chiedo siamo in una situazione in cui la rete sta crescendo a dismisura in cui la velocità che collega i nodi anche essa sta crescendo a dismisura ce la farà questa rete a sostenere il peso della ricerca per come ce la immaginiamo tu dici l'università non deve cambiare la sua missione ma mi sono d'accordo su questo oggi io mi siete d'accordo a questa idea appunto dico come possiamo rendere questa situazione di crescita esponenziale dei nodi della rete e della velocità che mi collega adatta alle specifiche esigenze del sapere dei termini di qualità di verificabilità di sostenibilità perché finora abbiamo fatto i conti senza un parametro che è il parametro economico perché sia in Italia che in Europa tutte le politiche della ricerca in qualche modo sono sottoposte all'elemento sostenibilità che si tratti di conservare i dati della ricerca di utilizzarli in maniera innovativa si richiede sempre un programma di sostenibilità ecco questa crescita che sembra non aver fine come si concilia con la necessità di dare sostenibilità alle cose che si fanno bene io credo una cosa abbastanza pratica e che tocca il mio senso pratico non vedo grande problema nel storage di archivio no? ehm noi stiamo parlando di zettabyte e altre cose stiamo anche parlando di una cosa che sembra infantile adesso ma finalmente si farà e avrà anche come dire un valore delle cose che abbiamo discusso e che si chiama il lifelog non il lifelog tu hai un petabyte sull'arriere per dire per per ricordare e registrare tutte le cose che vedi delle tue due occhiali video eh che si vuole le lente video sono già in produzione e con la tua eh il tuo ascolto di ossatura perché tu non senti male la tua voce vuol dire che è molto disorientante di sentire la sua voce ricordata io l'odio devo dire odio sentire la mia propria voce eh registrata vuol dire che sentito dal tuo no? dal punto di ossatura che è la dimensione del linguaggio questo è recording no? che è l'acquivio della mia vita quotidiana non immagino che la gente possa ricostrarsi un po' romanesco no? tu vuoi creare i più belli momenti della mia vita? ecco sono registrati quindi la giornata e faccio no questo è evidentemente non è un problema di storage non è più un problema di recupero neanche su di questo Marconi diceva una cosa assolutamente fenomenale veramente importante mi diceva che tra gli effetti dei prossimi medium rendeva obsoleto l'organizzazione della biblioteca come ha potuto dire una cosa? lui conosceva già il tag e che vuol dire il tag? il tag è l'indinizio individuale ciascuni mezzi di informazione che permette di recuperarla vuol dire che se tu sai con essere il tag della domanda con il tag della risposta l'hai fatto ma non ha più bisogno di organizzare qualche tipo di come dire struttura della biblioteca che non sono condannando eh? per niente continuiamo con la biblioteca esattamente come inizio continuiamo di leggere il tag però nessuno mi ascolta nessuna questione no per dire questo perché la rendere ossoleso la classificazione della biblioteca in duvidesimale questo vuol dire cambiare le condizioni questo vuol dire cambiare questa grande memoria aumentata fuori nella nostra testa questa grande intelligenza anche al lavoro fuori nella nostra testa fa che oggi literalmente abbiamo una situazione cognitiva dentro di che lo vedo veramente lo vedo perché ho già visto i primi macchine che lo fanno in pensiero direttamente connesso all'ultimedia direttamente connesso a Google direttamente connesso al giornale J-Store direttamente connesso a tutti i grandi rivisti online a Nature e io lo vedo questo perché ho visto già l'uso su cui io ho già una macchina che mi permette di cambiare i movimenti sull'in schermo cani insieme ok è molto come dire quindi tipo però quando tu hai fatto il primo passo adesso vieni ho un esempio un esempio assolutamente allora vi racconta una storia che mi è successo recente e che assolutamente mi ha completamente colpito io ricevo una lettera in giorni portoghese non conosco abbastanza bene il portoghese per capire tutta la lettera mi dica vabbè ci ha fatto un baventrici nel passato oggi facciamo Google Translate e vediamo un grande lettera così grande io trovo la cosa tradotta in inglese leggo la traduzione e al nostro cuore erano due o tre posti non gravi di sbaglio di senso ma il resto non solo era perfettamente detto coerente ma anche con espressioni colloquiali questo non l'ho mai visto questo vedi perché come si fa? poi un giorno così un giorno un patriatico viene a casa mia fa gli anni di questo e vi dico la grande sorpresa che sta convivendo con voi e mi dice ah si ma non mi dico un po' ma come si fa che hanno trovato questa quantità di scelta possibile di senso e ho detto no ma non si tratta del senso come non si fa dare il senso la stessa reazione o no di farlo solo no no si si evidentemente abbiamo senso ma il processo ha niente da fare con il senso basta prendere il pezzo di testo che sta vedendo e portare a confronto di centomila contesto più o meno comuni e viene a quello che è il più contesto a contesto di piuttosto che testo a contesto ok sempre la brava fondamenta però se cominciamo ad eliminare anche il linguaggio del processo di trasformazione dove siamo? face recognition più di una sensazione più specifiche oggi posso prendere la fotografia ciascuno di voi e mandarla su che ne so il programma di connessione con come si chiama figure instagram o qualche sia e trovare anche il vostro nome perché la macchina è capace di riconoscere come l'individualità del ditto no? riconoscere esattamente le proporzioni tra occhi il naso è diverso da ciascuno di noi solo o jay sewson sarebbe capace di negarlo guardate che jay sewson sennò non è importante però diciamo questo che il mondo di prendere informazione i ragazzi vivono in tempo reale con una sensibilità multisensoriale e interpestuale la loro mente funziona con sapendo già che il processo alle informazioni che hanno bisogno sono perfettamente coincidenti su questo l'idea di mettere informazioni interessanti insieme sono notatori sono questo è la cosa pattern recognition e questo è veramente un aspetto di però non rispondo bene alla tua domanda semplicemente perché va bene di dire che non abbiamo più bisogno della biblioteca né delle categorie perché continuano di essere come dire un scuccia io vedo che l'eliminazione dell'uno per l'altro è semplicemente stupidità perché anche sul piano del gerberno siamo così fatti che abbiamo un sistema di analisi e un sistema di presentazione dei dati c'è la presentazione dei dati nel visuale e il sistema che analizza e per questo che la alfabeto funzionava con le lingue europee questa è la domanda noi abbiamo un sistema di analisi e un sistema di presa e dobbiamo lavorare il problema è solo che evidentemente nella scienza quella cambia il paradigma sempre e le certezze di ieri divengono incertezza di oggi quando le incertezze precedenti rivengono certezze oggi siamo a recuperare oggi una sensibilità transscientifica che non può ignorare la scienza ma deve andare oltre e va oltre in qualche dimensione che sia va oltre della scienza oggi dobbiamo andare contro della scienza ecco questo mi fa pensare quello di cui parlavamo venendo qua il famoso dibattito sull'esistenza vero e presunta delle due culture no? parte da da Charles Snow ripreso in Italia da da Giulio Preti e poi continua fino a Jay Gould che fino a un paio d'anni fa anzi è stato pubblicato nel 2012 un libro postumo sulla sull'inconsistenza di questo modello delle due culture mi viene in mente primo perché è un punto fermo del rapporto che c'è tra la cultura umanistica e la ricerca in ambito umanistico e l'evoluzione tecnologica che non viene fatta in parallelo ma viene in qualche modo subita in ambito umanistico perché non siamo mai parte dei processi ma siamo utilizzatori dei prodotti prodotti che hanno pensato in larga parte altri ma non è solo questo il punto il punto è anche quello che una parte della ricerca umanistica ha una soglia d'accesso alla tecnologia ancora abbastanza bassa perché si tratta di utilizzare dei prodotti che sono alla portata di tutti c'è una parte della ricerca della ricerca penso per esempio agli storici dell'arte che è fondata sull'utilizzo di macchine molto complesse che non sono alla portata dell'utente di tutti i giorni come lo può essere parlavamo di adump o di un programma per l'analisi dei big data o per l'analisi statistica delle correlazioni o per l'utilizzo delle folksonomie al posto delle tassonomie ecco io mi chiedo alla luce di questo dualismo fra le due culture l'umanistica e la scientifica e anche alla luce del fatto che già nella cultura umanistica convivono metodi e pratiche di ricerca che sono ancora caratterizzate da una penetrazione non eccessiva dell'informatica e dell'ICT e invece ci sono delle zone in cui il peso dell'ICT è determinante è dominante come si può secondo te secondo anche le intuizioni di chi ci ha proposto questa chiacchierata quali sono i rischi e un po' ne abbiamo parlato le opportunità le abbiamo in qualche modo cercate di mettere in luce sui costi non credo che sia il caso che ci diffondiamo noi perché sono questioni forse un po' anche fuori di questo nostro incontro però soprattutto rischi e opportunità di questa convivenza che a volte è forzata e che molto spesso non è tenuta nella debita considerazione anche da chi fa di politica di politica di politica evidentemente ma anche isolata della ricerca humanistica mi dico vabbè ho fatto questa ricerca ho fatto questa ricerca la ricerca io per esempio sull'alfabeto il cervello si si c'è un po' di persone che leggo questo libro anche che è un po' costoso si chiama la rilateralizzazione della scrittura secondo la scrittura cervello e rilateralizzazione della scrittura questo libro e ok ho fatto questo libro posso vedere sul mio cd posso contare sui traiettori e e basta io lavoravo con un pazzo per dieci anni per arrivare a scrivere mi metto al al il posto di sono a posto di questo pezzolaccio e mi dico va bene e e e e lasciamo bene e continuo perché per me ero appassionato veramente appassionato della cosa lo scritto è fatto facciamo bene adesso però io penso un'altra cosa che la preghinazione la qualità della ricerca da chi tu parli si paga in un altro modo che quando si ricostituisce questa memoria assolutamente fondamentale che abbiamo a disposizione via la rete è precisamente il raffinamento del lavoro del ricercatore che fa che si può veramente conoscere bene questa zona della conoscenza e questo è un altro modo di vedere la posterità del nostro sforzo di cercatore un altro modo di vedere un altro modo di sapere che siamo a ricostruire una conoscenza che conta infatti la proposta del transmedia è sinceramente l'avevo scritto le ultime non so se si trova di più l'avevo scritto sulle ultime slide no? che permette la continuità di un rapporto storico e che permette precisamente di avere sempre più di conoscenza non esistenti le vostre diciamo incompetenze di essere storici della città d'Europa quindi così però vedete questo l'idea era questa allora io la sento la sento piuttosto il pericolo c'è un denaro non c'è questo lo sappiamo però la passione continua questo è assolutamente chiaro sarà sempre io penso che nel futuro il desiderio del ricercatore di trovare una cosa non cambierà infatti sarà aumentato con le possibilità aumentate di interconnessione e di il futuro sarà quello della domanda la mia domanda era come si fa che a partire dell'invenzione del sapeto la storia la geolizia la cosanità il spazio incinito tutto come si fa che a partire l'alfabeto questo è successo dovevano assolutamente sapere perché non lo so me lo vedo assolutamente sapere e mi hanno pensato ci sono arrivato assolutamente perché il fatto che dal momento che l'alfabeto arriva nella natura greca porta più fortemente la parte analitica che la parte presa di informazione leggere e analizzare e leggere e leggere anche leggere e mettere le cose insieme divigenza anche questo allora io ero appassionato di questo e quando ho visto come si funzionava la cosa la cosa che mi ha stupito era il fatto che la scrittura è andata a destra e non sarà a sinistra come il trusco o come ovvi gli etnicani come il cinese allora come spiegare perché la gente cominciano a scrivere a destra e non solo continuano a scrivere a destra non cambiano più i greci avevano cambiato una volta ricordate il bustofero scritto come è per 150 anni avevano scritto così era già una cosa strana ma cosa costa andare aveva fatto un bustofero l'immagine poi se vuoi dire il detto greco anche latino l'italiano diciamo tutte le lettere non sono simetriche e allora l'assimmetrica il fatto che la lettera non è simmetrica fa che un orientamento che è sempre costante il bustoferon aveva fatto questa è una associazione di havaldinisi il bustoferon aveva fatto che ciascuno dei movimenti della scrittura l'orientamento iniziale della lettera e che la lettera all'ultimo ritrovava il suo orientamento di destra si era orientato di destra come lo è per noi e e no? dell'epsidon e allora appartiene di questo ho visto che c'era qualcosa c'era nel bustoferon una chiamata della continuità della linearità una continuità che dipendeva dell'orientità perché la lettera non era scritta la lettura si iniziale comincia nel sette secolo dopo Cristo vuol dire che per arrivare no? a questo livello di continuità la lettura era semplicemente semplicemente a parola non è memoria né parola però il problema è il fatto che a un momento la scrittura diviene si forma sui muri e ci sono una serie di trasformazioni in cui questo che ha abbandonato dopo 150 anni un nuovo stile arriva che rispetta anche la verticalità e la orizzontalità della presentazione del lettere che obbliga infatti a rimettere spazi tra i parole e a rimettere la confiazione che era nel modello etrusco sono tanti dati che vi spatterò che vi lascio però l'idea è questa che una volta che domina il sistema di analisi sul sistema di presa data diciamo domina il cervello di sinistra sul movimento sul gioco di priorità da dare alle strategie che era la mente pratica per la lettura e evidentemente di fare la differenza tra le parole e di fare la continuità regolare fa che il stoichedon è stato inventato per scrivere sempre nella stessa direzione e abbandonare la continuità del stoichedon a che punto si fa già la trasformazione della mente a partire da questo e si fa la linearità come la cosa più importante per esempio l'invenzione della storia del narrativo viene con il mito delle tre parche le tre parche sono Cloto che tira il filo la Chiesis che lo misura e altra cosa che lo taglia vuol dire la narrazione che inserisce la nostra cultura greco-romana e occidentale questa priorità della linearità della distanza della prospettiva tutto questo ci abbiamo parlato che la domanda è all'era della realtà virtuale quando noi siamo con il nostro Google Oculus Rift vedendo in modo tridimensionale che diviene questo inserimento del nostro essere dentro lo spazio invece di essere osservatore con un punto di vista vedete tutto questo viene di una passione che non ci ritroverà sempre ci ritroverà sempre perché ci sono un sacco di possibilità e ci vedete ci sono ragazzi che sono brillantissime di inventare applicazioni sistemi altre cose non tutti però i ricicatori vengono in questo stock